Il volto del famoso narcotrafficante Pablo Escobar stampato sull'adesivo usato per chiudere le confezioni di droga. Due giovani di 18 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Prato e della tenenza di Montemurlo per detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Complessivamente i militari hanno sequestrato oltre due etti tra cocaina e hashish e quasi 6.000 euro. I due sono finiti in manette in occasioni diverse. Il primo a finire nei guai è stato il 23enne di origini marocchine, pluripregiudicato e clandestino, residente a Prato. I carabinieri lo hanno sorpreso a spacciare cocaina a un italiano arrivato appositamente in città dalla zona di Pistoia. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare altri 8 grammi di cocaina divisa in vari involucri. Un panetto di hashish del peso di circa un etto confezionato con l'adesivo con sopra impressa la faccia di Escobar e 5.000 euro in banconote di vario taglio. Il diciottenne, residente a Vernio, è stato invece trovato con diverse dosi di hashish per un peso complessivo di 10 grammi. Anche la sua abitazione è stata perquisita, trovato un altro etto della stessa sostanza, materiale per il confezionamento delle dosi e 600 euro.